Arpiuma le lezioni ad grammatica e sintassi piemontese e arpiuma questa lezioni con la preposizione, incaminando la preposizione semplia e poi passando alla preposizione articolà. La preposizione sbita con il sostantivo, l'aggettivo, i verbi e il verbo. Queste lezioni ad grammatica e sintassi piemontese ammiro a envoyer la gente, quest piemontese, a parlerlo, scuterlo, leslo e scriverlo. Che l'unica dice che leslo alle malfe, ma mi ricordo che se uno avrebbe leso il piemontese sapevo imprendere a leslo a pochi tempi. Per scriverlo hai va un pochi tempi ad pi, ma avendo angaggese e angaggianze in arriva. Allora l'unica dice, incaminiamo con le preposizioni, incaminiamo con le preposizioni semplie. De, che è per il piede con la forma eud, o puramente la di con l'apostrofa nangso, la di con l'apostrofa presse. A, da, con, su, per, trafra, an, ante, e poi le forme ente e un, che sono ad forme, insomma, lucaie. E fuma qualche esempi. Per esempio, mettiamo un sostantivo con la, con la preposizione de, un much et feng, un much et feng. Ma questa preposizione de es cangia in di apostrofo, in la preposizione, la blessa, una blessa d'autri tempi. Adesso combiniamo al de con l'articolo el, che fa del, del pare. L'articolo, la preposizione de con l'articolo la, la mare, la mare. E poi via via con tutte le altre preposizione. A ammira al e alla. Da ammira dal e dalla. Kung, aveveng, kung, el, oppurement cul. Cul basta magbuter, ci, o, apostrofo, el. Per, trafra, an, ante, un, ente. Come vede, è abbastanza sempre combinare le preposizione con gli articoli. Tanto con gli articoli indeterminativi che con gli articoli determinativi. Ma le preposizioni a quello con esse d'autre, ecco, io vedo questa grammatica piemontese a Camillo Brero che ha una marca con d'autre. Per esempio, suta, zura, drinta, fora, da nanzo, che per essere nanzo o a nanzo, da rera, da cant, vers, travers, ultra, eccetera. No? Però, diciamo, a queste preposizioni che l'uomo le suoi adesso, per un anno, diciamo, combinasse con l'articolo, la scrive sempre separa. Quindi, si dirà, per esempio, fora, fora la muralla, fora la ca, eccetera. E, però, separa dal, dal, sostantivo. Queste sono le preposizioni. La differenza fra le preposizioni è sempre le preposizioni articolari, è che le preposizioni sempre a cambio e le preposizioni, vuoi dire, le preposizioni articolari a cambio, le preposizioni sempre sono abbastanza fisse. Ecco. Le vorrei ria, che ho fatto altri esempi, vediamo un po' la sfruzione che resta della lavagna. come, per esempio, an, per esempio, an, piemont, an, piemont, che corrisponde all'italiano in Piemonte. Ant, la ca, che corrisponde all'alcense, ant, la ca, colrisponde all'alcense di drinta la ca, no? Ant, la ca. e l'umma comarca queste forme si, n e ant, perché, penso non a teori, ma in campagna su wens, questa an e ant avevano pronuncia n e n, al posto là, l'umma lei, l'umma lei è smuta. perché mentre c'è lì che la lingua piemontese, la scrittura della lingua piemontese, ha preso a scrivere tanto il piemontese come il piemontese letterario, il piemontese classico, che il piemontese per parlare magari anche il paese. Vogliamo inserire che, per esempio, sortiamo per un momento dalle preposizioni, ma prima, per esempio, il verbo lese, lese che l'è la seconda coniugazione, ma questo verbo lese è in campagna che si vence e si sente, pronuncia lesi, come, per esempio, il tuponimo casele, casele, che l'è la città dove è l'aeroporto, e lo pronuncio caselli, caselli, no? Qui c'è la particolarità, ecco, va bene, può stare lì, ma la forma classica, la seconda coniugazione, è lì, è finito, con un finale, in E ed in E. Allora, prima, un discurso, andò in poche preposizioni. E lo piuma dalla sloiera, la sloiera numero cinquanta, la sloiera della rivista piemontese, la sloiera. Descurruma an piemontese, an, e è la preposizione an. Esercumadeye fusum, esercumadeye, è la preposizione eddeye, a nostra bim per al Piemonte, per, preposizione per, e preposizione articolà per l. E per i valur, un'altra preposizione articolà, per i valur, che ha conto da buon, ed fecapì, ed, ed fecapì, che segreta nos bonheur, ed, nos bonheur, come dice Barbatoni, all'etco, all'etco, parlelo, autaproduzion, stupie montese, scrivelo, bisudielo, leslo, sonelo, cantelo, subielo, ballelo, tarlelo, teatrelo. Escutuma l'on che ha indiso i grandi, Barbatoni all'era un grande, all'era un grande autore, un gran prosadore, un gran poeta, un grandom. L'on che ha viva ad pi, d'rinta a noi. Escutuma l'on che ha indiso i grandi, l'on che ha viva ad pi, d'rinta a noi, perché se i grandi è un pinè, ha viva il suo accord, e ha viva il suo messaggio.